Il Governo riproporrà appena possibile la norma che prevede l'incompatibilità tra la carica di Presidente di Regione e Commissario della Sanità. Lo apprende l'Agenzia Dire, da fonti del Ministero della Salute, che conferma la volontà politica del Governo di reintrodurre la norma il più presto possibile. Una delle ipotesi è di inserire questa previsione nella prossima legge di bilancio, oppure in un altro provvedimento da approvare entro fine anno o all'inizio del 2019. L'incompatibilità tra le due cariche era stata eliminata esattamente due anni fa, con il Via Libera ad un emendamento alla finanziaria, che dava la possibilità ai governatori di ricoprire l'incarico di commissario alla sanità in tutte quelle regioni dove il comparto è commissarato per motivi contabili. Quella norma fu ribattezzata Pro De Luca perché, poco dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, fu nominato commissario ad acta per il risanamento della sanità regionale. Oltre a De Luca, oggi ricopre il ruolo di commissario alla sanità anche Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, ma entrambe le regioni hanno annunciato la possibile fuoriuscita dal piano di rientro, con la conseguente fine del commissariamento entro la fine dell'anno. In Molise potrebbe esserci presto la nomina di un nuovo commissario alla sanità, che non dovrebbe essere comunque il governatore Donato Toma. In Calabria, invece, il governatore Mario Liviero ha espresso spesso aspre critiche nei confronti del commissario, l'ingegnere Massimo Scura.